bella raga oggi aspetta se sto filmando si perché ogni volta che faccio una intro ci sei te che dici minchiate questo video siamo sulla hotline di prato nevoso ci sono dei bag no il bag è giù ci sono dei salti divertenti dove ci tiro delle scrabate tipo così anche se questo è un table via raga ma che cazzo mi stavo già imbelinando un po sabbiosa tra ho tirato una svrappata che tra un po sfondo un cerchio qua c'è questo che io salto non so se lo sapevi che c'era un salto vorrei svrappare ma non riesco perché troppe pietre salto bello questo comunque raga prato nevoso a me casa un sacco infatti per girare qua ripeto i flat io qua ci sono le macchine qua si taglia tutta la strada e poi si ritorna nella pista veramente gasato qua oh mamma mia oh che svrappatino che ho tirato bunny hops un altro no questo è un bank no un non lo so cos'è questo bellissimo gnaum madonna quanto alto questo guapa ale guber non rende dalla copro ma un po' si va alto serie di curvette ho fatto un whip misto table non mi piaceva granché qua un po' pericoloso perché spettiamo d'aria eccolo ho fatto tutta sta parte nuova nel bosco che devo dire non è male ma è un po' da migliorare perché l'anno scorso si passava sul pietraio che era una cosa veramente infattibile però anche qua ce ne sono di pietre cavolo c'è il terreno che c'ha dei punti che è gommoso perché è umido e dei punti che è secco come non so cosa qua è un po' gommoso un po' secco non si capisce bene qua che sbrappata qua c'è sto step up che devi prenderlo velocissimo se vuoi equipare però è bello chiccato e spara in alto scrab questa non si sa cos'è perché arrivi in curva ma è figo da fare qua c'ero caduto una volta non me la rischio qua zoom in curva fierissimo olè che schicca l'hai vista la mia sbrappata questo veramente bello mamma mia e questi due panettoni i miei preferiti questo bello e questo gigantesco no forse quello più grande è dopo non mi ricordo eccolo è quello quello grande questo qua ci arrivi toc bom ci arrivi toc bom poi c'è un altro che se lo pompi bene arrivi bello in alto anche qua ti sto... mamma mia che flettazzo sono andato un po' troppo alto oh oh mio dio bello serie di curvette fatte veramente bene qua poi hanno fatto sto nuovo salto che non c'era bello gasato e questo non mi ricordo se c'era però è bello anche questo è una pista molto veloce e divertente e a me piace un sacco siamo arrivati dal bex oh bello gonfio che stamattina era chiuso ancora oi ci provo arrivo di schiena ma perché non riesco a capire e dai merda niente non riesco a capire che 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 Grazie a tutti.